Belen e il mostro di Tussi Cuevales, stessa reazione della sorella Cecilia Belen Rodriguez si spaventa a Tussi Cuevales, la reazione è la stessa della sorella Cecilia. Belen e Cecilia, sorelle di nome e di fatto. Le sensuali Rodriguez sono molto simili e davanti ad un elemento di paura reagiscono allo stesso modo. Lo ha chiaramente dimostrato le ex moglie di Stefano De Martino, scappata dallo studio di Tussi Cuevales dopo che le luci si sono spente ed è apparso un uomo travestito da fantasma. Appena visto il misterioso tizio, Beluse l'è data a gambe levate e ha urlato disperata, non mi piace. Le stesse parole che Cecilia ha pronunciato nella casa del grande fratello Vip quando, in occasione della festa di Halloween, sono entrati dei mostri che hanno impaurito l'Argentina. . L'atteggiamento delle due sorelle non è passato inosservato al popolo di Twitter, che ha rimarcato l'analogia in numerosi tvei. . Ma è Belen o Cecilia? Si sono chiesti divertiti in molti sui social network. . Come Cecilia ha picchiato Malgioglio per la paura, mancava poco che Belen facesse lo stesso con Rudy Zerbi ha notato qualcuno. . La compagna di Andrea Iannone, dopo aver lasciato la sua postazione da conduttrice, ha infatti cercato riparo dietro la poltrona del giudice discografico. . Non solo, ha addirittura spinto Mara Venie che, proprio come la Rodriguez, è scappata via dalla sua sedia piuttosto intimorita dalla situazione che si è venuta a creare nello studio del fortunato format di Canale 5. .